eccoci comincia la difesa non so, aspetta che arrivano a uscire no no va morto stiamo questa è una prima discesa prima assurda uuuuuh uuuuuh i piedi c'è fuori uuuuuh 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 uuuuh guarda così vado fuori fredda uuuuh che č a seconda parábolica uuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh la terza la proverà a stringere per sta coda si rimette in pista è è è è è io caro di sta cosa anche qua eh taglio, taglio il diare recupero lo sfrigge, lo sfrigge, mi stretta io quasi sparo fuori sezione la pista la chiude, la chiude è forse in vantaggio 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 puttana che velo che mi hai fatto signori sono ancora vivo che sballati è forse in vantaggio